L'episodio risalirebbe a qualche giorno fa, ma la denuncia emerge solo oggi. Due rapinatori sono entrati a volto scoperto nel centralissimo negozio di Intimissimi in via Sacro Cuore e hanno puntato alla cassa, ma ne sono poi andati via solo con la borsetta della commessa. Sono stati due malviventi, uno dei quali, secondo quanto raccontato, avrebbe una cicatrice al volto, ad agire in pieno giorno indisturbati. Non si tratterebbe del rapinatore seriale, che per il momento ha fatto perdere le sue tracce, ma di due delinquenti che hanno agito per rubare i soldi dalla cassa. Nonostante la presenza di alcuni clienti, hanno intimato la donna di aprire la cassa al secco rifiuto della commessa, che ha risposto freddamente di non avere le chiavi per aprirla, detenuta solo dalla titolare, hanno arraffato la borsetta della donna nel retro e sono fuggiti velocemente. A quel punto è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, che hanno raccolto gli indizi necessari e le dichiarazioni per avviare le ricerche dei due malviventi. Un altro particolare di questa vicenda, rispetto a quelle messe a segno contro una farmacia, due salumerie, un esercizio alimentare, un panificio e due ricevitorie, riguarda l'ora d'azione, in genere l'ora di chiusura, stavolta invece in pieno giorno.